ragazzi scusatemi ok ragazzi oggi voglio far vedere come fare lo slime ora io l'ho già messo a fare perchè devo uscire vabbè io ora vi dirò cosa vi serve olio di seno acqua e come si chiamava io non mi ricordo più si chiamava amido di mais oppure amido di patate uno di qualsiasi quindi sono sempre uguali poi dovete mettere in un pentolino l'acqua a bollire ma non a bollire giusto così poi ci buttate dentro l'amido di mais che vuole l'amido di mais se non avevo... e poi iniziate a metterci l'olio quando lo vedete più denso ci servirà un po' un secondo vado a prendere ok ho preso un palettino e una ciotolina di vetro e ora possiamo cacciare questo spero che sia venuto bene ma per giocarci ci vorrà che si raffreddi ok ho preso un po' ok ho preso un po' ok ho preso un po' il mio padre spero che sia... scusatemi che sono i messaggi che arrivano sul telefono che è un secondo ragazzi che devo chiudere la telefona per il mio padre che è un numero di metterci che va bene ed è solo il mio padre che non mi ha messo il muto non aveva suoneria non aveva messo la vibrazione Aspettiamo che si raffreddi Ok ragazzi Ora dico che un pochettino si è raffreddato Diciamo Hai visto che io non ho coloranti alimentari Perché io però non so dove sono Questi sono i colori Sapete come? Io scelgo il pennello viola Ho messo un pochettino d'acqua E ci intruppo il pennellino viola L'acqua è inserita ad essere viola Però non ce la dovete mettere tutta giustamente Il punto di vista è che il pennello viola è già scaricato Prendete una rosa Vabbè giustamente quelli che volete usate voi Io per me uso questi Perché quelli che Diciamo che capita Non mi capita Questo quale ho già fatto Questo Ecco questo qua è bell'attivo Scusatemi che mia madre che sta parlando con mio padre Prendo direttamente tutti i pennelli che è Passate Un po' di arancione Un po' di arancione Un po' di arancione Un po' più scura Come la voglio io In pratica La potete fare come volete Con voi che volete Un po' di arancione Poi Pugniamo le arancione Scusate C'è una piccica Un po' di arancione Un po' di arancione Un po' di arancione Un po' di arancione Perché con questi qua Non so cosa si potrebbe fare Però un giorno di questi facciamo qualcosina giustamente questo qua non si può mangiare perché abbiamo usato un pegnarello come colore non si sta colorando un pochettino però mi sto uscendo credo vabbè diciamo che non è appetito non è proprio che mi aspettavo che uscisse andate a cercare un altro modo per fare tipo uno slime con la colla di giotto vabbè questo qua ve lo farò nel prossimo video così vi farò vedere poi questo ciao